Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i seminari del Centro Studi Rive. Oggi ospitiamo con grande gioia un intervento presentato da Jean-François Chauvard e Teresa Bernardi che si intitola Disciplinare il matrimonio, tracciare la mobilità, riconoscere le relazioni, alcune considerazioni sui processetti matrimoniali veneziani diciassettesimo, sedicesimo, diciottesimo secolo. Ecco io vorrei innanzitutto dire due parole su questo appuntamento a cui tengo moltissimo e vorrei ringraziare particolarmente il direttore dell'archivio del patriarcato di Venezia, l'archivio storico del patriarcato di Venezia che ci ha fatto il grande onore di essere presente qui con noi e insieme le archiviste Laura Levantino e Mirella D'Agostino che sono anche tra il pubblico. So poi che ci sono molti collaboratori del progetto di cui appunto Jean-François Chauvard e Teresa Bernardi ci parleranno e li ringrazio anch'essi tutti quanti per essere presenti in questa bella occasione. Allora i nostri relatori in questa bella occasione ci presenteranno appunto un intervento che prende le mosse al progetto internazionale, un progetto di ricerca molto interessante che si intitola appunto Processetti coordinato da Jean-François Chauvard e finanziato dall'Agence Nazionale de la Recherche. Si tratta di una ricerca storica basata su una fonte documentaria ricchissima appunto i processetti matrimoniali conservati presso l'archivio storico del patriarcato di Venezia e si tratta di una serie documentaria molto importante perché in sostanza si tratta di una prassi che ranno bene i nostri relatori naturalmente per cui nel momento in cui i cittadini non proprio veneziani diciamo adesso entreremo poi nel merito decidevano di contare il matrimonio bisognava accertare il loro stato libero e questa documentazione quindi ci giunge grazie a questi processetti per l'appunto di cui si spaderanno i nostri i nostri relatori. Naturalmente la fonte costituisce il punto di partenza per una ricerca storica che ha vari obiettivi tra cui abbiamo appunto la questione della mobilità che poi è centrale anche nell'ambito del nostro della nostra prospettiva appunto Venezia e l'altro e quindi la presenza di foresti e stranieri in laguna all'epoca del rinascimento. Io non mi dilungo oltre ma permettetemi di presentare innanzitutto i nostri relatori. Jean-François Chauvara è professore ordinario di storia moderna all'Université Paris-Anne-Sorbonne dal 2019 per l'appunto coordina questo progetto di ricerca molto importante che si intitola Processetti Mariage et Mobilité à Venise du deuxième du deuxième siècle in partenariato con il Laboratoire de recherche historique Ronalp ma anche con l'Università degli Studi di Padova, l'Università di Atene e l'École française d'Atene e de Rome. Inoltre Jean-François Chauvara lo conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazioni, è uno specialista sui essenzialmente la storia dell'Europa mediterranea, più in particolare la storia sociale dell'Italia urbana, specialmente Venezia e Roma e tra le più recenti pubblicazioni ricordiamo il volume Lie et délie la propriété, tutelle publique et administration des fides communes à Venise au dernier siècle, della Repubblica che è uscito se non sbaglio nel 2018 e poi un articolo molto interessante che tra l'altro fa riferimento proprio alla ricerca che presenterà oggi, le mariage entre grec e latin dans le monde vénitien, gouvernement des minorités, discorde confessionnelle et convergence procedural che è apparso in Annale de Monographie historique nel 2018. Teresa Bernardi è invece assignista di ricerca all'Università di Padova, è membro del Centre for Advanced Studies in Mobility and Humanities, dopo essersi laureata a Ca' Foscari in storia moderna e aver conseguito il dottorato di ricerca per la Scuola Normale Superiore di Pisa, da settembre appunto collabora come ricercatrice al progetto Processetti. I suoi interessi di studio sono a cavallo tra la storia sociale, culturale e legale e si concentrano principalmente sulla mobilità femminile e le pratiche di identificazione dei migranti nella prima etran moderna. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo per esempio mobilità e appartenenze multiple a Venezia, il caso di Tarsia alias Laura Malipiero, apparso in Genesis nel 2017, oppure ancora Tracing Migrations Within Urban Spaces, Women's Mobility and Identification Practice in Early Modern Venice, nel volume a cura di Beatrice Micheletto, Beatrice Zucca e poi un altro articolo in collaborazione con Matteo Pompermaier, Hospitality and Registration for Foreigners in Early Modern Venice, questo apparso in Gender and History. Io non mi dilungo oltre, prima di passare però la parola ai nostri relatori che ringrazio infinitamente per la loro generosità e per averci regalato questo momento di scambio molto importante, vorrei dare la parola al direttore dell'archivio storico del patriarcato di Venezia, Don Diego Sartorelli, che ringrazio ancora per la settimana. Spero mi sentiate. Buonasera. Buonasera a tutti e buon lavoro. È per me un onore più che altro intervenire, poi i miei impegni mi chiameranno altrove, però appunto ci tenevo ad essere che fin dall'inizio abbiamo come archivio accolto veramente a cuore aperto questo progetto perché proprio fa parte della nostra vocazione di archivio storico della Diocesi mettere a disposizione dei ricercatori tutto quello che vi è custodito. Non è infatti semplicemente una raccolta di fatti, avvenimenti ormai chiusi in un passato per noi abbastanza remoto, ma ha ancora tante tantissime cose da raccontarci e credo che il metodo, quello che il vostro progetto sta seguendo, può essere anche un metodo condivisibile al di fuori poi di questo settore, di questo arco particolare e cronologico di ricerca, ma può anche aprirsi ad altri tempi e altre epoche perché il tema della mobilità, come penso tutti noi ben sappiamo e conosciamo, soprattutto in questi anni, in questo anno di immobilismo, ecco però è un tema importante, lo è importante in quel secolo lì, in quei secoli lì, ma è importante anche nei nostri secoli. E i nostri archivi, specie gli archivi ecclesiastici di allora, ma credo anche di ora, e quelli anche che verranno, hanno sicuramente molto da dirci. Ecco, e sono una fonte, credo, di prima mano, non solo per quell'epoca, non solo per quel tempo, ma anche per l'epoca che succederanno. Quindi il metodo, secondo me, adottato è la cosa che mi piace di più, insomma, ed è il motivo per cui vi incoraggio e cercherò come direttore e con i miei collaboratori di fare ovviamente il possibile, anche in questi tempi un po' drammatici, perché questo vostro progetto possa sempre trovare accoglienza. E quindi vi ringrazio, insomma, e buon lavoro. Siamo noi a ringraziarla moltissimo, ancora una volta, e io ci tenevo davvero molto che appunto il direttore potesse rivolgere i suoi saluti, perché, insomma, chi mi conosce, poi, insomma, penso lo stesso, penso di parlare anche a nome dei relatori, sappiamo quanto gli archivi siano per noi un luogo assolutamente prezioso e centrale nel nostro esercizio della professione, e quindi è giusto che le istituzioni siano rappresentate, vive e presenti, anche quando ci, appunto, poi cerchiamo appunto di raccontare dove ci hanno portato questi archivi e che cosa è venuto fuori dalle nostre ricerche. Quindi grazie davvero al direttore, grazie a Laura e a Milena per essere presenti, e non mi dilungo oltre, lascio subito la parola a Jean-François, che se non sbaglio è il primo a intervenire. Grazie. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Non ho parlato davanti a 104 persone da tempo. Anch'io condivido moltissimo i graziamenti svolti al direttore dell'archivio patriarcale e a tutto il personale per la sua disponibilità in questo contesto è stato reso complicato dalla crisi sanitaria e siamo veramente molto grati della loro presenza e disponibilità. Tengo anche a ricassiare Valentina Sapienza e il gruppo Rive per averci dato l'opportunità di presentare un progetto in corso. Tengo alla parola in corso quelli dei processetti che coinvolge diversi enti accademici di ricerca, come è stato appena accenato, l'Università di Padova, di cui alcuni colleghi sono qui presenti, ho visto passare Walter Pancera, anche l'Università di Atene e le scuole francesi di Roma e di Atene, e anche l'Agenza Nazionale della Ricerca, che ha attribuito al progetto un finanziamento non straordinario, però che consente di lavorare per quattro anni. Aggiungo che in vista di realizzare una banca dati, ho stretto una collaborazione con una ditta suizera, Cleolab, la quale ha messo a disposizione la piattaforma GeoVistory, e ho riclutato per due anni e mezzo tre studiosi incaricati dalla trascrizione, annotazione e analisi dei dati, Jacopo Cossu, Davide Drago e Francesco Azzugno, qui presenti, che avevano lavorato nell'ambito del progetto ANR Garzoni, che conoscete tutti bene, e Teresa Bernardi, che aveva utilizzato diversi processetti matrimoniali nella sua tesi di dottorato, ci ha raggiunto a settembre nell'ambito di un postdoc dell'Università di Padova. Saremo due, lei e io, a prendere la parola, ma gli esempi che daremo sono il frutto di un lavoro collaborativo, e colgo l'occasione per ringraziare la squadra, la team veneziana, come è chiamata, per la sua competenza, il suo impegno, e anche il lavoro che ha svolto in sintonia con tutto il personale dell'archivio patriarcale. Dunque, organizzeremo il nostro intervento in tre parti. Inizialmente, presenterò brevemente il quadro storiografico in cui si inserisce questo progetto e il contesto storico e normativo di produzione di questa fonte. In un secondo momento metteremo in evidenza la complessità della fonte e le categorie elaborate per strutturare i dati. Nell'ultima parte, accentreremo l'attenzione sulle domande di ricerca che si possono formulare a partire dell'analisi qualitativa e quantitativa dei processetti. In particolare, saranno analizzate le questioni che riguardano più da vicino la ricerca di Teresa Bernardi, ovvero la mobilità femminile e il processo di identificazione personale in età moderna. Allora, i processetti matrimoniali o esamina matrimoniorum a seconda del termine usato nell'archivio patriarcale sono delle indagini condotte dalla curia episcopale per verificare che i promessi sposi fossero celibi o vedovi. Questa procedura conduce al rilascio di un certificato di Stato libero che autorizza formalmente la celebrazione del matrimonio. In quell'intersezione fra storia sociale e storia religiosa, i processetti permettono di combinare lo studio della disciplina del matrimonio con quello del controllo della mobilità, due campi di ricerca che sono tradizionalmente separati nell'astrografia. Hermano Orlando, che conoscete bene, che ha scritto questo bellissimo libro sull'immigrazione mediterranee, dimostra che tra 4 e 500 la proporzione di stranieri era elevata nelle cause matrimoniali per bigamia. La mobilità effettivamente aumentava l'instabilità matrimoniale e stimolava al contrario tutte le unioni alternative. L'immigrato, più che l'autotono, poteva dissimulare il suo passato e sposarsi di nuovo, tenuto conto del debole rischio di essere scoperto. Ma all'opposto, una lunga assenza del congiunto poteva essere un motivo legale per chiedere lo scioglimento del matrimonio. I processetti matrimoniali rappresentano una componente della risposta della Chiesa Cattolica a questa sfida alla fine del Cinquecento. È necessario tornare alle prescrizioni del Consiglio di Trento per capire meglio il contesto in cui i processetti sono inseriti. Per evitare le unioni clandestine e le seconde nozze assimilate alla bigamia, il decreto Tamezzi fissava delle nuove formalità che conoscete bene. Le tre pubblicazioni prima del matrimonio, la presenza del prete per ricevere l'unione e la compilazione dei registri matrimoniali. Dopo il Consiglio, la Chiesa impone ad ogni parrocchia la redazione dei processetti matrimoniali in cui contenuto poteva cambiare non solo da una diocesi all'altra, ma anche nel tempo. Inizialmente si trattava di una sorta di dossier che il parroco costituiva per ogni coppia al fine di verificare che i nubenti rispettassero i requisiti necessari, l'età, il grado di parentela, lo stato libero. La filsa poteva contenere un certificato di patesimo, un certificato di morte o in caso di verdovanza o le dispense. Più tardivamente, tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, vengono aggiunti i certificati di Stato libero concessi dalla cura vescovile dopo l'esame dei testimoni. Il termine di processetto matrimoniale tende a questa epoca a disegnare questa procedura specifica e è quella che stiamo proprio studiando. A sua volta questa procedura differiva da una diocesi all'altra. Ad esempio a Napoli i processetti più vecchi risalgono alla fine degli anni venti del Cinquecento. A Venezia vedremo agli anni ottanta del Cinquecento. A Roma la serie archivistica inizia nel 1608 a Pisa o Livorno al 1630. Non ci sono regole generali per definire le persone che venivano indagate. A seconda di ogni diocesi il processetto era obbligatorio per tutti o solo per alcune categorie di persone ad esempio quelle senza una dimora stabile in città. A Roma e a Napoli esso toccava tutti invece a Livorno o Pisa lo Stato libero veniva accertato solo quando uno degli sposi era straniero. Quei di fronte a una tale varietà di situazioni è chiaro che l'idea di aggiungere alle pubblicazioni una procedura specifica per controllare lo Stato libero non emanava da un decreto della congregazione del Sant'Uffizio di Roma ma piuttosto da diverse iniziative sinodali che poi crearono un clima di emulazione tra le diocese. Per quanto riguarda Venezia il sinodo convocato dal patriarca Lorenzo Priuli nel 1592 diede un impulso alla sistematizzazione di una procedura che consisteva di fatto e una pratica occasionale già nel decennio precedente come lo vediamo nelle filse delle cause matrimoniali in cui sono inseriti già processetti. il capitolo settimo degli atti del sinodo dedicato al matrimonio stabilisce delle investigazioni particolari per gli stranieri e tutti coloro che avevano abitato fuori città. Leggo soltanto il brano che riguarda particolarmente la procedura e leggo la traduzione italiana quando uno degli sposi viene da un'altra diocesi è necessario fare le pubblicazioni nella parrocchia della sua diocesi e quello che deve portare la coppia di queste pubblicazioni con il sigilio della detta parrocchia con l'attestato dell'ordinario senza questo il matrimonio non venga celebrato ma un po' più avanti si legge accade anche volta che i promessi sposi stranieri abitano entrambi a Venezia da anni tanto che hanno stabilito la loro residenza in questa città in questo caso è più facile ottenere informazioni su di loro a Venezia che nella loro patria di origine soprattutto se sono partiti bambini di conseguenza decretriamo che quando degli stranieri daranno la prova in presenza di due testimoni che hanno vissuto in modo continuo durante più anni nella nostra città e che hanno lasciato la loro patria senza nessuno legame le pubblicazioni fatte a Venezia nella propria parrocchia saranno sufficienti e non saranno costretti a pubblicarne e un'altra diocese il sinodo prende dunque in considerazione un problema specifico posto dalla mobilità riconosceva che le pubblicazioni nel paese di origine non erano praticabili e spostava le azioni di controllo nel luogo dove veniva celebrato il matrimonio pubblicazione più processetto in maniera generale la procedura come vedremo riguardava la popolazione per la quale i documenti scritti non bastavano per provare lo stato libero perché persisteva un dubbio il futuro sposo doveva presentarsi davanti alla curia patriarcale in compagnia di almeno due testimoni che attestavano con giuramento il suo stato libero a partire dall'inizio del settecento sono indagati a Venezia tutti i nubendi qualsiasi fosse la loro origine tanto i veneziani quanto gli straniere la procedura non rispondeva più unicamente alle incertezze indotte dalla mobilità ma era generalizzata a tutta la popolazione senza per ora una spiegazione evidente ma questi cambiamenti vanno esaminati con più attenzione nei prossimi anni nel corso del primo decennio della procedura il questionario venne a stabilizzarsi e la trascrizione delle risposte dei testimoni subì una normalizzazione questa standardizzazione è il segno di una routine amministrativa che si colloca in un processo più ampio di burocratizzazione ci sono anche segni di acculturazione della procedura da parte dei fedeli che hanno assimilato la necessità di produrre attestati di battesimo di morte oppure certificati di stato libero stipulati in altre diocesi in cui avevano vissuto il processetto di Giovanni di Felice Marzer Tautonico fa esplicitamente riferimento al contenuto e allo scopo della fede leggo un brano della testimonianza di Pietro Mater di Andrea mercante Sabaudo di giugno 1594 a proposito di Giovanni di Felice al paese non può essere maritato perché porta qui una fede che s'usa a fare quella a fare delle qualità e stato delle persone che si partano di là e danno conto particolare in quella se siano e non maritate e in questa portata da lui è chiaramente specificata questa condizione a partire dal Seicento questi certificati questi attestati erano spesso prestampati e poi compilati a mano il loro riperimento richiedeva vere e proprie ricerche nei libri parrocchiali che allora si volesse che l'indagine fosse condotta in maniera scrupolosa da parte dei sacerdoti nei primi decenni del Seicento fu avviata un'altra procedura nella quale la congregazione del Sant'Uffizio di Roma era solicitata ad autorizzare la curia vescovile a ricevere il giuramento suppletorio del supplicante questa procedura veniva applicata prevalentemente nei confronti di quelle persone che pure disponendo di attestati scritti o di testimoni non erano in grado di portare delle prove sufficienti del loro stato libero riguardava dunque gli stranieri di cui il percorso migratorio fino a Venezia era così complesso e spesso si era svolto fuori dallo sguardo dei testimoni rintracciabili in città una volta concessa la licenza dal Sant'Ufizio aveva luogo la deposizione dei testimoni che era conservata negli stessi fascicoli dei processi matrimoniali avete sotto gli occhi un esempio di questa domanda di cermento supplicatorio di un Leonardo spagnolo di Perugia di metà settecento che è in grado di produrre un attestato venivendo della sua diocesi di origine dicendo che non è stato sposato di là però poi ha viaggiato attraverso tutta l'Europa come avete visto sulla pagina precedente e solo in grado di produrre un altro attestato un'altra fede venendo da Roma che era il suo ultimo soggiorno in Italia prima del suo arrivo a Venezia però per tutto il resto del suo percorso attraverso l'Europa fino all'Austria non era in grado di produrre né testimoni né fedi scritti dunque il controllo dello stato libero ha generato un'intensa circolazione di certificati nel mondo cattolico tra parrocchie e curia vescovile tra diocesi diverse e tra diocesi e Roma il santificio a mo' di conclusione provvisoria sulla procedura perché questo aspetto va indagato molto di più vorrei rispondere a due domande prima domanda se i processetti rappresentavano una risposta alla sfida iniziata iniziata dalla mobilità umana alla disciplina matrimoniale erano anche una norma in grado di cambiare la pratica della mobilità evidentemente non hanno frenato la mobilità non hanno potuto però hanno potuto indurre nuovi comportamenti da parte delle persone che avevano assimilato i requisiti della procedura di controllo i fedeli erano coscienti della necessità di presentare testimoni in grado di evocare il loro passato in particolare il loro passato migratorio avevano anche in mente l'obbligo di disporre di fedi di libertà e magari di anticiparne la richiesta da parte delle autorità ecclesiastiche nelle città in cui hanno vissuto seconda domanda i processetti hanno avuto una certa efficienza nell'imporsi della disciplina matrimoniale stessa evidentemente costituivano un elemento di un processo più ampio di normalizzazione dei comportamenti matrimoniali ma è impossibile dire quanto questa pratica abbia contributo a ridurre i casi di bigamia e la chiesa stessa era consciente dell'illusione di un controllo assoluto così bene che ha accettato il principio del giuramento suppretorio la procedura va tuttavia presa sul serio la disciplina mirava a ricordare ai fedeli l'importanza spirituale del sacramento del matrimonio i processetti furono imposti dall'autorità ma non dobbiamo ridurli solo a una forma di controllo dall'alto davano anche dei diritti e in particolare il diritto di sposarsi in un luogo non sempre corrispondeva a quello di origine una volta portate le giustificazioni del proprio stato libero ecco mi fermo qui riprenderò un po' più tardi la parola che lascio a Teresa grazie dunque colgo anch'io l'occasione per ringraziare di questo invito e dell'opportunità di parlare del progetto e della ricerca che sto intraprendendo la seconda parte di questo intervento è frutto di un lavoro collettivo e ha come scopo quello di analizzare da vicino la fonte di cui ci stiamo occupando presentandone innanzitutto le caratteristiche formali arrivati a questo punto infatti è probabile che qualcuno di voi si stia chiedendo che aspetto abbia un processetto come sia strutturato e anche quali informazioni contenga come anticipato vorremmo anche mettere in evidenza la ricchezza di questa fonte e le categorie elaborate per strutturare i dati in vista di un'analisi seriale della documentazione tutto ciò tenendo conto dei tre momenti di cui si parla nel titolo del nostro intervento dunque disciplinare il matrimonio riconoscere le relazioni e tracciare la mobilità al fine di indagare lo stato libero dei forestieri intenzionati a sposarsi a Venezia e tenere sotto controllo le unioni matrimoniali le autorità ecclesiastiche avevano stabilito una serie di domande da porre ai testimoni e di informazioni da raccogliere all'interno del fascicolo come si può osservare in genere il testo si compone di unicipi latino dove sono indicate le generalità del richiedente dunque nome e patronimico origini professione e parrocchia d'abitazione così come anche la motivazione che ha reso necessaria l'indagine matrimoniale in questo caso si dice accostando in sé non esse vincolo matrimoniali quindi per verificare che non ci fosse stato un legame matrimoniale già in essere e che il richiedente abitasse in città da almeno venti anni seguono la data del processetto e la trascrizione delle testimonianze precedute dalle informazioni sempre in latino precedute e seguite relative ai testimoni dunque questa struttura precisiamo non rimane invariata nel corso del tempo ma subisce delle modifiche possono emergere una serie di informazioni più complesse che comprendono l'occasione della conoscenza tra richiedenti testimoni e le loro relazioni sociali in questo caso si dice avanti il contagio in quattro possono essere disdotto in disnove anni io conosco il detto zuanne con occasione che siamo stati garzoni insieme e il tempo di permanenza in città del richiedente e poi anche i suoi spostamenti avvenuti prima e dopo l'arrivo a Venezia dunque ci sono informazioni appunto sia sulla mobilità extraurbana come vedremo che sulla mobilità intraurbana e infine l'età delle persone coinvolte partiamo dagli elementi che sono facilmente identificabili e che possono essere qualificati come strutturali perché presenti in tutti i documenti come appunto le generalità dei richiedenti e dei testimoni lo strumento digitale che stiamo utilizzando il job history permette di registrare in forma strutturata per ogni persona una ricca serie di dati tuttavia come si può immaginare i testimoni non forniscono quasi mai delle informazioni omogenee sul conto dei richiedenti e i punti di riferimento temporali non sono sempre riportati con precisione cronologica per fare solo degli esempi l'età dei situri sposi viene generalmente indicata in maniera approssimativa e gli anni possono cambiare da una testimonianza all'altra come si può vedere in questo processetto in cui il primo testimone sostiene che il richiedente abbia 31 anni circa mentre la seconda testimonianza che è quella che vedete che invece ne avesse dai 35 ai 36 anni l'arrivo a Venezia inoltre può essere associato ad eventi significativi per la popolazione dell'epoca come l'incendio dell'arsenale le pestilenze oppure le guerre contro i turcchi che non vengono tuttavia quasi mai datati con precisione o ancora gli avvenimenti possono essere descritti nel loro mero sviluppo diacronico ovvero si dice solamente che un fatto è avvenuto prima di un altro quindi senza ancoraggi cronologici questo aspetto è rilevante in quanto riflette il modo di pensare il tempo del periodo storico di cui ci stiamo occupando e inoltre pone una sfida importante nel momento in cui ci si trova a registrare i dati dunque per rispettare tanto la natura tanto la natura della fonte quanto le necessità di classificazione si è optato ad esempio per descrivere la temporalità non solo attraverso una data precisa e facilmente riconoscibile dunque ma utilizzando un arco temporale posto tra due estremi cronologici oppure attraverso la concatenazione di eventi dunque indicando semplicemente che un evento è avvenuto prima dell'altro anche la descrizione delle origini geografiche come potete immaginare necessita una particolare cautela nel trattamento dei dati in quanto le testimonianze non sempre indicano un centro urbano come luogo di provenienza ma possono fare riferimento ad esempio ad un'intera area geografica infatti i documenti ci parlano di valli di isole di ville oppure di regioni storico-culturali è per questo che in alcuni casi si ricorre alla georeferenzazione per centroidi ora vi spiego subito che cos'è ovvero l'assegnazione di coordinate poste approssimativamente al centro dell'area interessata che dunque permette anche in questo caso di individuare una sorta di punto di compromesso per quanto riguarda le motivazioni con cui le autorità davano inizio a questa procedura come già accennato sono state definite e classificate tre categorie di individui chiamati a dimostrare lo stato libero i migranti forestieri e subiti veneti che decidevano di sposarsi in città gli individui che trascorrevano lunghi periodi di tempo fuori Venezia come ad esempio i marinai soldati o i mercanti e i vedoli chiamati a dimostrare l'avvenuta morte del coniuge in questo caso il nostro campione consiste in circa 750 processetti e abbiamo schedato per il momento circa 2400 persone quindi da una prima esplorazione dei dati si può osservare che la maggior parte dei processetti riguarda lo stato libero dei forestieri infatti vedete l'83% mentre circa l'11% in casi di vedovanza e solo il 4% quello delle persone lungamente assenti da Venezia tuttavia sospettiamo che questi ultimi valori possano aumentare nel corso del 600 ancora una volta tuttavia il fatto che ci troviamo a trattare una fonte particolarmente narrativa e ricca di informazioni ci impone di contemplare una serie di eccezioni in alcuni casi infatti i processetti possono essere motivati da più di un'istanza ad esempio lo stato libero di forestiero e la vedovanza nel 1594 Dominichina da Creta fu chiamata a dimostrare di non essere sposata fuori di Venezia e di non aver mai lasciato la città dal momento del suo errore il processo si sarebbe concluso in questo modo se la la seconda testimone non avesse rivelato in chiusura tra l'altro alla sua dichiarazione il possibile stato vedibile della donna come vedete evidenziato in rosso ho ben inteso la detta donna Melichina che lei era maridata fuori al suo paese ma che suo marito è morto che non mi ha detto quando ne dove questo fatto comportò la necessità di attestare anche la morte del marito attraverso un'ulteriore testimonianza rilasciata però solo sette mesi più tardi dunque la povera Dominichina dovette aspettare sette mesi prima di di potersi sposare quindi ripercorrendo il susseguirsi delle testimonianze si assiste ad una vera e propria evoluzione di quelle che noi chiamiamo le motivation types le motivazioni quindi da stato libero di foresto a vedovanza senza che l'una finisca per escludere l'altra in altri casi invece il procedimento non riguarda né la vedovanza né lo stato libero dei forestieri ed è questo il caso di Giovanni Galvani quindi sebbene il processetto si presenti nella sua forma usuale quindi con la struttura che abbiamo analizzato precedentemente in realtà ad essere appurata in questo caso è la legittimità dei suoi natali o ancora nella un'inchiesta condotta nel novembre del 1598 che vedete sulla destra aveva come finalità quella di appurare che il matrimonio di un certo Gregorio Maretti ed Elisabetta Ventura fosse avvenuto secondo i dettami del concilio di prento come soluzione a queste eccezioni abbiamo optato per registrare nella nostra piattaforma digitale il GeoVistory anche i casi che non sarebbero rientrati nelle tre categorie da noi individuate creando un gruppo di processetti per comodo definiti attipici la tutto questo per dire che la classificazione della tipicità risulta estremamente importante perché potrà garantire in futuro la possibilità di identificare delle nuove categorie di persone indagate dall'autorità ecclesiastica permettendoci di intravedere i mutamenti della procedura nel corso del tempo ora restituisco nuovamente la parola al professor Schovar che vi spiegherà in che modo stiamo classificando le relazioni sociali e tracciando la mobilità allora un altro aspetto che ha stimolato il costante tentativo di trovare un compromesso tra la natura della fonte e la necessità di classificare dei dati utilizzabili in ottica quantitativa interessa le reti di relazione fra testimoni e richiedenti per quanto riguarda i forestieri ad esempio se lo scopo delle autorità era quello di accertare lo stato libero dei richiedenti i testimoni erano chiamati a pronunciarsi non solo sulla condizione attuale dei nubenti ma anche sul loro passato e su periodi in cui non dimoravano in città di conseguenza gli elementi che avrebbero conferito maggiore valore alla testimonianza erano la lunga durata dei legami e la loro continuità non a caso le relazioni maggiormente menzionate dai testimoni sembrano essere come è stato messo di evidenza in questo elenco l'origine comune e la frequentazione professionale e le due tipologie risultano spesso associate per giustificare appunto la continuità della relazione nel tempo nonostante questo le categorie di relazione attualmente in uso sono non meno di 30 e comunque continuano a sembrare insufficienti e sono già tanti potremmo anche raggrupparli perché alcuni tipi sono abbastanza vicini la grande varietà di reti di relazione emersi nel corso della notazione e ci porta a arricchire e ridefinire constantemente la lista di riferimento elaborato dalla team veneziana optando per creare più specificazioni possibili come si può notare anche dalla testimonianza che si propone di analizzare a partire dalle dichiarazioni del primo testimone sul conto di un certo Giovanni d'antica tesser da panni di setta è possibile rintracciare e registrare una serie di relazioni che rimandano tanto al legame con il paese di origine Valmareno quanto alla conoscenza coltivata a Venezia le tipologie che possono individuare vanno infatti dall'origine geografica e l'educazione comune in età infantile all'ospitalità alla frequentazione professionale di natura subalterna l'amicizia e l'assidua frequentazione leggo da piccolo in su io conosco il detto Giovanni perché siamo paesani il quale abita in questa città dal contagio prossimo passato in cuore che possono essere da 19 anni in circa continuamente è ben vero che egli è stato al paese diverse volte ma per pochi giorni e vi andavano di compagnia la maggior parte e siamo allevati in questa città insieme e ultimamente egli è stato cinque anni in casa mia dove mangiava beveva e dormiva e vi lavorava come lavorante e insomma io l'ho veduto ordinariamente in questa città e tutte le feste siamo insieme i processetti presentano inoltre una fonte eccezionale anche per quanto riguarda lo studio della mobilità e delle migrazioni nonostante la documentazione riguardi precisamente i migranti intenzionati a sposarsi quindi la popolazione più stabile giovane e meglio assimilata nelle attività economiche della città questa fonte offre la possibilità di analizzare i fenomeni migratori attraverso diverse scale di osservazione per quanto riguarda la mobilità extraurbana stiamo registrando un'ampia casistica di spostamenti che riflettono la complessità dei percorsi migratori a discapito del modello sociologico tradizionale che per lungo tempo ha considerato i flussi migratori come direzionati da un punto di partenza ad un punto di arrivo è stato invece possibile individuare diverse tipologie di traiatori siamo in grado di distinguere ad esempio gli spostamenti che precedevano l'arrivo a Venezia da quelli che lo seguivano specificando anche le ragioni con cui i testimoni giustificavano la mobilità dei richiedenti che vanno da motivazione personale sia di natura lavorativa che di commercio al servizio militare al bando la prigioniera il pericinaggio il solanzo e così via il processo di Pietro Guglielmo Mera un pittore di Utrecht che i storici dell'arte qui presenti devono conoscere ho visto anche passare una pittura di lui sul mercato dell'arte da poco dunque questo processetto di Pietro Mera descrive una varietà di traiettorie che comprendono uno spostamento temporaneo fuori Venezia e so che in questi cinque anni lui è stato in Venezia continuamente eccettato che già due anni in circa lui andò a Roma e un viaggio che si incirisce fra il paese di origine e l'arrivo a Venezia si partì in medesimo tempo con detto Pietro di Fiandra e venne secco sin in Alemania e poi già due o tre anni capitò qua le testimonianze sul conto di Alvise Agostinis scrivan di nave da Venezia inquisito nel 1627 devono rispondere dai suoi spostamenti fuori città e lo fanno in maniera particolarmente dettagliata specificando le ragioni e le caratteristiche della sua mobilità come si può osservare si trattava di un periodo di navigazione composto da più viaggi avvenuti in compagnia e per ragioni professionali non abbiamo il tempo per approfondire qui l'argomento ma la nostra prospettiva di analisi non si interessa solo alla mobilità extraurbana ma anche a quella intraurbana o residenziale la quale ci ha portato a produrre un modelo discrittivo in grado di identificare e definire la parrocchia come luogo di lavoro luogo di abitazione o entrambi e quindi di poter tracciare sia la mobilità abitativa che quella lavorativa alla luce di quanto detto sinora si può sostenere che attraverso l'uso di questi testi quando particolarmente descrittivi è possibile far emergere veri e propri spaccati biografici che tuttavia rischiano di fuggire nella loro interezza all'analisi seriale il metodo che stiamo utilizzando dà la possibilità di segnalare la presenza di alcune tipologie di informazione anche quando impossibili da strutturare e dunque da sottoporre all'analisi come ad esempio la descrizione dell'aspetto fisico o della condotta morale delle persone coinvolte i riferimenti a eventi storici che talvolta immergono dalle testimonianze oppure nella presenza nei fascicoli di fedi o attestazioni va infine ricordato che la fonte in cui ci stiamo occupando pone delle sfide all'analisi seriale della documentazione anche da un punto di vista della costruzione narrativa trattandosi di testimonianze trasmesse oralmente e di testimoni scelti nella cerchia di conoscenza dei richiedenti i processetti sono testi che necessitano anche di uno sguardo ravvicinato motivo per cui il progetto si propone di combinare e favorire un'analisi di tipo quantitativo e qualitativo della fonte se ci sofferma sul linguaggio delle testimonianze infatti è possibile individuare quegli elementi in grado di conferire un valore maggiore alle attestazioni salta subito agli occhi ad esempio l'importanza di porre l'attenzione sul tempo di permanenza in città dei futuri sposi e ancora più sulla continuità abitativa se lo scopo dei processetti era quello di evitare le unioni illicite le testimonianze avrebbero senz'altro sostenuto l'occasionalità dei periodi trascorsi fuori Venezia così la stessa logica la lunga durata e la continuità del legame richiedenti e testimoni come specificato poco fa avrebbe conferito un peso maggiore alle dichiarazioni di quest'ultimo finora do un'indicazione un po' quantitativa dello spoglio e dell'annotazione realizzato la team ha spogliato e annotato i processetti dell'ultimo decennio del Cinquecento e intendiamo se riusciamo a procedere intendiamo andare fino alla peste del 1630 e poi fare sondaggi ogni 25 anni prendendo in considerazione un numero molto più limitato di informazioni tipo mestiere origine o età affinché fare comparazioni fino a metà settecento mi fermo qui e lascio la parola a Teresa per l'ultima parte di questa relazione grazie dunque dopo aver analizzato il contesto di produzione dei processetti matrimoniali e aver introdotto le potenzialità dello strumento digitale che stiamo utilizzando il mio compito oggi è quello di soffermarmi sulle piste di ricerca che l'analisi di questa fonte ha permesso di immaginare la mia intenzione infatti non è quella di fornire delle risposte ma di mettere a fuoco una serie di interrogativi che spero possano poi stimolare il dibattito dunque nell'ambito di un ciclo di incontri che ha come tema Venezia e l'altro non posso che iniziare da una riflessione su forestieri a cui questa pratica era rivolta come ha già sottolineato il professor Chovar per più di un secolo l'obbligo del processetto a Venezia non riguardò l'intera popolazione ma soltanto alcune categorie di persone oltre ai veneziani vedovi a coloro che avevano trascorso un lungo periodo di tempo fuori città abbiamo visto come la maggior parte dei richiedenti fossero forestieri provenienti dai luoghi più disparati ma per lo più dall'Europa del nord dalla penisola italiana e dai territori dei domini veneziani come potete osservare in questa mappa contrariamente a quanto ho osservato studiando altri tipi di registrazione dei forestieri come la concessione dei permessi di soggiorno i soggetti dei processetti non provengono necessariamente da altre giurisdizioni ma possono essere anche sudditi veneziani e inoltre nella maggior parte dei casi queste persone sono arrivate a Venezia da molto tempo e hanno sembrano avere già un rapporto consolidato con la città e con i suoi abitanti quello che invece ho osservato comparando le diverse pratiche di registrazione dei migranti a Venezia è che le autorità fossero queste laiche o ecclesiastiche come in questo caso non erano interessate ai forestieri quanto tali né individuavano nella mobilità delle persone un pericolo di per sé lo stato libero ad esempio non veniva richiesto solo sulla base delle origini di una persona quello che innescava il bisogno di identificare un individuo e di indagare i suoi spostamenti come abbiamo visto anche dal testo del sinodo penso consistesse piuttosto nella mancanza di informazioni su quella tal persona a livello locale alla luce di un dibattito storiografico che ha messo in discussione il ruolo delle origini nei percorsi migratori e nell'ambito delle pratiche di identificazione dei migranti questa fonte è in grado di rafforzare l'idea che nel periodo storico che stiamo prendendo in considerazione e in una città fortemente plurale come Venezia fossero le reti sociali e le comunità locali ma anche diciamo translocali all'interno delle quali una persona si muoveva a contare maggiormente nella definizione di chi fosse o meno l'altro sarebbe interessante verificare se le definizioni cambiavano nel corso del tempo e se le autorità si rivolgessero sempre alle midesime categorie di persone questo sarà possibile studiando la documentazione sul lungo periodo e soffermandosi su alcune congiunture particolari come ad esempio appunto i periodi di pestilenza se continuiamo a interrogarci sugli individui coinvolti in questa pratica una pista di ricerca che vorrei sottoporre alla vostra attenzione riguarda le migranti donne e più in generale la mobilità femminile negli ultimi anni l'analisi dei processetti matrimoniali ha permesso di studiare le migrazioni in età moderna anche da punti di vista inenti si pensi ad esempio ai lavori di Angelina Arru che ha messo in discussione il ruolo primario del matrimonio con i locali come canale di inclusione all'interno di una comunità urbana o a Eleonora Canepari che ha fatto luce sulla varietà dei canali di socialità attraverso i quali i migranti erano in grado di creare dei legami con il tessuto urbano senza ombra di dubbio la fonte si è rivelata particolarmente funzionale quindi allo studio della mobilità sebbene come abbiamo visto necessiti di particolari attenzioni ermeneutiche uno degli aspetti per cui questa tipologia di documentazione si distingue in modo particolare consiste nella presenza massiccia delle donne e in particolare delle donne migranti parlo di presenza massiccia anche se come vedete i dati finora raccolti non mi danno del tutto ragione la presenza femminile consiste in un 15% fra richiedenti e testimoni tuttavia occupandomi di mobilità femminile e di donne forestiere a Venezia mi sono a lungo impegnata nella ricerca di una fonte che potesse permettermi di affrontare questo soggetto e in genere la documentazione che più mi ha parlato di mobilità femminile in realtà aveva poco a che fare con la mobilità e le migrazioni in questo caso invece ho individuato una serie di possibilità di ricerca che vorrei presentarvi ad esempio mi sono chiesta se i percorsi di mobilità di uomini e donne venissero documentati allo stesso modo da parte delle autorità cittadine in questo caso delle autorità ecclesiastiche vorrei rispondere prima di tutto da un punto di vista numerico poi da un punto di vista delle rappresentazioni analizzando la costruzione narrativa delle testimonianze da una prima indagine infatti appare evidente che i testi fornissero due immagini discordanti della mobilità maschile e femminile questo può dipendere dai modelli di mascolinità e femminilità di un dato contesto storico e legale ma anche dai condizionamenti legati al genere che di fatto avrebbero influenzato i percorsi migratori la mobilità femminile ad esempio sembra essere costantemente monitorata da una serie di intermediari in quanto le donne appunto risultano spesso accompagnate nei loro spostamenti uno dei testimoni di Caterina nel primo esempio una donna grigiona abitante a Venezia nella parrocchia di San Moisè dichiarava appunto di averla condotta in prima persona nella città lagunare infatti dice mi l'ho condotta in queste parti già dieci a sette anni in circa che allora poteva avere solamente dieze o do di sei anni e anche nel secondo esempio in riferimento alla richiedente si dice benendo occasione al detto suo barba di andare in Francia l'ha messa a stare in Camoncenico dove al presente si trova nemmai è andata in alcun luogo in questa città e infatti anche in relazione alla mobilità residenziale i testimoni delle spose talvolta restituiscono dei risoponti particolarmente dettagliati dei loro spostamenti da una parrocchia all'altra e dei cambi di abitazione come ad esempio si può vedere nel terzo esempio e dopo che si partì da me l'andò a stare con alcuni laneri che li chiamano i baratteri a Sant'Agostino quindi si precisa appunto anche la parrocchia dalle quali essendosi partita andò a stare in casa di Messer Gabriele Popo Bell a Sant'Andrea quindi la tendenza a monitorare la mobilità femminile e a tenerne traccia soprattutto a livello comunitario costituisce un tratto piuttosto comune anche in altre tipologie di fonti in questo caso tuttavia abbiamo la possibilità di verificare questo aspetto attraverso l'esplorazione dei dati infatti come è già stato osservato il geovistori permette di descrivere la mobilità e di distinguere ad esempio quando uno spostamento è avvenuto in compagnia o al servizio di qualcuno lo stesso vale per l'arrivo a Venezia siamo in grado di segnalare i casi in cui lo spostamento è stato in qualche modo mediato da una persona che ha accompagnato la richiedente o richiedente un'analisi piccolo problema tecnico adesso speriamo si risolva stiamo cercando naturalmente di contattare la relatrice ecco che si è giustamente sconnessa per cercare di riconness eccola qui Teresa ci sei blackout allora scusate provo a ricondividere non ti sento Valentina e dovete dovresti abilitarmi alla condivisione di nuovo già fatto normalmente ok ora sei coorganizzatore allora riproduci dalla corrente ok e non so dove siete rimasti dove mi avete persa hai evocato gli outcomes in grado di scrivere la mobilità dunque la tendenza a monitorare la mobilità femminile e a tenerne traccia soprattutto a livello appunto comunitario costituisce un tratto piuttosto comune anche in altre tipologie di fonti e in questo caso tuttavia abbiamo la possibilità di verificare questo aspetto però attraverso l'esplorazione dei dati infatti come è già stato osservato il giudizio ripermette di descrivere la mobilità e di distinguere ad esempio se uno spostamento è avvenuto in compagnia oppure al servizio di qualcuno e lo stesso vale per l'arrivo a Venezia dunque siamo in grado di segnalare i casi in cui lo spostamento è stato mediato da una persona che ha accompagnato il richiedente un'analisi preliminare ha evidenziato che almeno un terzo degli spostamenti delle donne sono esplicitamente indicati come spostamenti in compagnia su un totale che comunque comprende un alto numero di movimenti invece al servizio di qualcuno dunque attraverso l'analisi dei dati poi saremo in grado di verificare anche da un punto di vista numerico una serie di altre informazioni ad esempio soffermarsi sui luoghi di origine di uomini e donne o sui loro spostamenti successivi all'arrivo a Venezia permetterà di affrontare il tema della distanza questo tenendo conto ancora una volta di un dibattito storiografico che ha per lungo tempo insistito sul binomio tra breve e lunga distanza ignorando appunto la varietà dei percorsi di mobilità oppure attribuendo alle donne una mobilità si può dire limitata in realtà già a partire da un'esplorazione preliminare dei dati si può osservare come appunto numeri a parte i luoghi di origine di uomini e donne non discordino di molto vediamo nell'immagine di destra le provenienze delle richiedenti quindi anch'esse provenienti soprattutto dall'Italia settentrionale soprattutto dai domini veneziani sia da terra che da mar poi negli uomini vediamo invece appunto anche una delle provenienze dall'Europa del nord ciò che probabilmente infatti farà la differenza sarà l'analisi dei percorsi avvenuti in seguito all'arrivo a Veneto in città si può già osservare infatti che un'ampia varietà di spostamenti associati ai richiedenti uomini e la tendenza da parte dei testimoni di sottolineare la sedentarietà delle future spose come elemento volto ad avvalorare l'attestazione di stato libero è un elemento un punto diciamo saliente delle testimonianze tanto che i testimoni spesso sottolineano il fatto che le donne non si siano mai mosse nemmeno dai confini della propria parrocchia cito non è mai stata fuori dalla città che non ha neanche passato quei contorni dei frari dunque l'analisi dei dati permetterà anche di mettere in evidenza le risorse economiche mobilitate dalle donne per lungo tempo le donne migranti sono state considerate come comprimarie dei percorsi di mobilità come soggetti al seguito dei propri mariti o parenti o addirittura forzate nei loro spostamenti si pensi ad esempio alla letteratura sulle sulle renegate sulle schiave o le serbe in area mediterranea sono diversi gli studi recenti che hanno messo in discussione questo modello migratorio mettendo in evidenza anche le risorse economiche utilizzate ma soprattutto condivise dalle donne la ricerca appunto andrebbe in questa direzione dando una consistenza anche numerica a queste nostre ipotesi per quanto riguarda i dati raccolti fino a questo momento le professioni che vengono registrate più frequentemente sono quelle appunto con una grande prevalenza di massera nena insegnante ma anche tessitrice e affittacamere invece nella maggior parte dei casi testimoni richiedenti vengono identificate attraverso la professione dei padri o dei mariti oltre alle risorse economiche questa fonte è particolarmente generosa come abbiamo visto per quanto riguarda le relazioni sociali investite da donne e uomini migranti e qui mostriamo nuovamente l'elenco delle tante tipologie riscontrate uno degli obiettivi della ricerca sarà quello di mettere a confronto le tipologie di relazione associate agli uomini e alle donne per riscontrare l'eventuale presenza di specificità incrociare le relazioni sociali con il genere permetterà credo di riflettere più in generale sul ruolo delle comunità locali e delle reti familiari non solo rispetto a questa pratica di registrazione ma anche al controllo dell'istituto matrimoniale quali relazioni erano più funzionali a testificare lo stato libero e come questo aspetto può cambiare in base al genere dei futuri sposi oltre a un'indagine sulle specificità della mobilità femminile e maschile l'analisi di genere permetterà di mettere in luce anche il ruolo delle relazioni di genere nei percorsi migratori e viceversa queste saranno intese non solo come relazioni tra marito e moglie ma anche tra familiari o tra le donne e gli intermediari dei loro spostamenti per fare solo un esempio mi sto interrogando su quanto la ricreazione o la rottura dei legami matrimoniali o prematrimoniali potesse costituire in qualche modo un incentivo allo spostamento sia in termini appunto di migrazione sia di mobilità interurbana soprattutto per quanto riguarda le donne sembrano già numerose ad esempio i casi in cui i testimoni associano il trasferimento nella dominante alla condizione di vedovanza anche se e qui ancora una volta sarebbe importante far dialogare l'analisi quantitativa con quella qualitativa collocare il trasferimento in laguna subito dopo la morte del coniuge avrebbe potuto rappresentare un modo per ridurre al minimo la possibilità di un secondo matrimonio fuori città dunque sarebbe stata una strategia retorica uno degli obiettivi infine sarà anche quello di indagare quanto questi legami sociali fossero realmente consolidati mettendo a confronto i testimoni dei processetti con i testimoni di nozze quindi utilizzando anche i registri matrimoniali dunque spero di non aver troppo approfittato della vostra pazienza perché ho un'ultima pista di ricerca da presentarvi che ho in parte già intrapreso durante la tesi di dottorato e si tratta del rapporto fra cultura orale e scritta nell'accertamento appunto dello stato libero questa pratica amministrativa diventa sistematica in un periodo storico in cui sembra crescere il bisogno di attestazioni scritte si pensa ad esempio ai registri di battesimo e di matrimonio ai primi censimenti e anche alla circolazione dei documenti di viaggio nonostante ciò si può osservare come la testimonianza orale rimanesse una fonte imprescindibile spesso decisiva anche nella valorare le informazioni presenti nelle carte scritte nel nostro caso come ha precedentemente spiegato il professore il processetto rappresenta anche proprio materialmente un esempio emblematico di questa compresenza abbiamo da una parte le testimonianze e dall'altra una serie di fedi e documenti allegati la fede di stato libero che ne risultava veniva rilasciata sulla base di entrambi questi elementi cosa succedeva però quando un'unione veniva annullata che funzione aveva la fede e che valore assumeva poteva assumere in tribunale dunque per iniziare a rispondere a queste domande vi propongo di spostare l'attenzione dal momento che precedeva le nozze a quelle in cui i due sposi tentavano di sciogliere il vincolo e contemporaneamente dunque dai processetti matrimoniali che consideriamo appunto anche come una pratica amministrativa ai procedimenti giudiziari per bigamia ricordiamo che la poligamia o la bigamia o poligamia era un reato di mistoforo che a Venezia faceva parte dell'ambito di competenza di diverse magistrature e autorità cittadine tra cui gli esecutori contro la bestemmia il caso giudiziario di Giuseppe Mora accusato dalla moglie di averla abbandonata e di essersi sposato fuori Venezia ci dà un'idea di come la fede di stato libero non fosse un documento valido una volta per tutte ma che avesse un valore fino a quando un equilibrio a livello comunitario oppure di coppia venisse appunto a mancare e il processo infatti vede come imputati non solo l'uomo accusato di bigamia ma anche il testimone incaricato di aver appunto attestato lo stato libero dello sposo in occasione del secondo matrimonio come era possibile che Giovanni Mora avesse ottenuto una fede per sposarsi la seconda volta quello dunque nel 1692 la moglie Maria Bartoli si rivolge appunto alla magistratura degli esecutori contro la bestemmia attraverso una supplica sostenendo che il marito l'aveva abbandonata e presenta due fedi matrimoniali la prima che attesta un matrimonio avvenuto a Belluno nel 1682 e la seconda invece un'unione celebrata a Verona esattamente dieci anni dopo dunque poco prima dell'inizio del processetto di fronte alla presentazione di questi documenti la magistratura sembra non avere dubbi e decide di condannare al bando Giuseppe Mora che nel frattempo era scappato da Verona quello che a noi interessa è che il procedimento non si conclude appunto con la condanna del bigamo ma che l'indagine prosegue nei confronti del testimone che ha attestato lo stato libero di Giuseppe un certo Duane Rizzi il quale viene accusato di falsa testimonianza e ritenuto responsabile dell'illegittimità delle nozze quindi da questo momento in poi la fede di stato libero proveniente da Verona viene messa in discussione proprio a partire dalla testimonianza trasmessa oralmente e da quegli elementi di cui abbiamo già discusso in precedenza che nella fase prematrimoniale avrebbero conferito maggiore credibilità ai testimoni gli esecutori una volta entrati in possesso del processetto di Giuseppe Mora riscontrano infatti una discordanza piuttosto evidente tra le informazioni fornite dall'imputato in sede processuale e invece le dichiarazioni che aveva rilasciato prima del matrimonio in occasione del processetto infatti Zuanne avrebbe sottolineato il rapporto di parentela con Giuseppe ti dicesti nel tuo primo esame a Verona che avevi tutta la cognizione del predetto Iseppo conoscendolo da piccolo in qua e poi anche la continuità di quel rapporto dicesti di essere stato cinque o sei anni a Venezia insieme con detto Iseppo che lui serviva a quel tempo e che tu imparavi in Venezia la professione del forno dunque di fronte ai giudici secolari invece Zuanne fornisce una versione diversa del legame con Giuseppe Mora infatti negando di essere stato suo parente puntualizzando di essere stato a Venezia solo di passaggio avrebbe in qualche modo giustificato il fatto che non fosse a conoscenza dell'esistenza della prima moglie nel momento in cui attestò lo stato libero di Giuseppe possiamo confermare che la testimonianza orale rappresentasse quindi una fonte cruciale per avvalorare o confutare le informazioni presenti nelle carte scritte quello di Giuseppe Mora non è un caso isolato diverse sono le carte processuali che attestano il valore di prova della testimonianza rispetto allo stato civile degli individui la mia intenzione è quella di continuare ad indagare l'utilizzo effettivo del processetto e il valore delle sue testimonianze questo anche a partire da altre tipologie di documentazione come ad esempio le cause matrimoniali o i processetti per indigamia condotti dalle autorità cittadine un altro obiettivo sarebbe quello di comparare e far dialogare la documentazione presente a Venezia con quella prodotta in altre città dei domini veneziani dunque per aggiungere un ultimissimo elemento alla riflessione sulla compresenza fra oralità scrittura e scrittura nell'utilizzo dei processetti di stato libero e sulla centralità delle reti di relazione per quanto riguarda l'identificazione personale e la ricostruzione dei percorsi di mobilità da cui siamo partiti vorrei soffermarmi brevemente sullo stato vedovile anche per accertare lo stato vedovile le autorità ecclesiastiche si basavano su documenti scritti come le fedi di morte che venivano trasmesse anche da una località all'altra infatti diventava necessario accertare la morte dei coniugi defunti nel momento in cui il decesso avveniva fuori Venezia allo stesso tempo ci si basava su testimonianze sia di visu sia di audito ovvero per sentito dire come si può notare nel primo esempio un elemento che ho trovato estremamente interessante di cui ho discusso in archivio anche con il resto del gruppo qualche giorno fa consiste nel fatto che i defunti venissero identificati anche in base alla descrizione fisica fornita dai testimoni e che i vedovì fossero riconosciuti come tali anche in base al loro abbigliamento infatti vedete la descrizione nel secondo esempio era più presto Bassotto che altrimenti non aveva ancora fatto barba più presto Grassotto che altrimenti e aveva capelli piuttosto biondi che migli e poi appunto il riconoscimento dello stato vedovile attraverso l'abbigliamento quindi si fa spesso riferimento al fatto che i testimoni sanno che un indiv... un richiedente è vedovo o vedova perché si veste da corrotto ad esempio e scusate con la batteria un po' scarica dunque un elemento che ho trovato estremamente interessante di cui ho discusso in archivio qualche... no questo già lo dicevo l'identità sociale dunque sarebbe stata registrata anche nella memoria comunitaria non solo attraverso la parola scritta ma per mezzo di comportamenti e gesti riconosciuti da vicini e conoscenti si tratta di quella che Raul Merzario definisce l'anagrafe orale e ringrazio per questo riferimento Alessandro Buono lo stato di vedovanza dunque veniva performato e reso visibile in funzione anche forse anche di renderlo ufficialmente riconosciuto quando sarebbe stato necessario come in occasione di un processetto questo ci dà la dimensione di quanto contasse per definire la condizione civile di un individuo la sua immagine pubblica quindi la fama e il riconoscimento da parte delle comunità locali a cui apparteneva per lo stesso motivo si ipotizza che il bisogno di attestare lo stato libero non riguardasse tutti i forestieri o i forestieri in quanto tali ma coloro che a causa della mobilità rendevano difficile accertare la loro identità sociale tanto sulla base dei documenti scritti appartenenti ad altre diocesi quanto sulla base di reti di relazione non sempre possibili da ricostruire dunque avevo detto che avrei presentato solo delle domande invece ho avuto modo di formulare anche qualche risposta quindi mi piacerebbe cogliere questa occasione per discuterne con voi grazie grazie infinite a Jean-François Chauvin e a Teresa Bernardi per questa ricchissima presentazione e complimenti perché insomma è un progetto in corso ma mi pare che ci siano già molte molte così non solo di ricerca ma anche insomma qualche qualcosa su cui si può addirittura cominciare a riflettere discutere anche rispetto a ciò che sapevamo prima e che potrebbe non di poco cambiare da un certo punto di vista io però mi taccio e lascio la parola a Nicola Moucheron e Alessio Boccazzi che si recuperano di moderare il dibattito ricordando semplicemente al pubblico che è possibile rivolgere le proprie domande nella chat oppure chiedere semplicemente di intervenire chiunque naturalmente può farsi avanti grazie mille grazie ancora veramente Jean-François e Teresa ringrazio anch'io i tuoi relatori per questi interventi ricchissimi e invito i partecipanti a porre le proprie domande tramite la chat forse per aprire la discussione soltanto una mia curiosità avete parlato molto degli intermediari che intervengono nella migrazione mi chiedo se questi intermediari sono anche sollecitati per fornire la documentazione queste carte che circolano chi sono le persone che chiedono ad esempio una fede di battesimo nella parrocchia di origine come arriva questa informazione a Venezia e quale rete viene utilizzata per fornire questa documentazione do una risposta ma poi Teresa anche la team può intervenire perché loro hanno una padronanza dei processetti ben migliori a questo punto se mi ricordo bene abbiamo alcuni esempi di richiedenti che sono tornati appunto al paese per chiedere una fede spesso è indicato nel processetto i ritorni al paese che è un elemento molto interessante perché è indicato anche la durata e la frequenza elementi difficili poi da strutturare però spesso è indicato e uno dei motivi del ritorno al paese è appunto la 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 domanda di una fede che portano dopo a a Venezia non ho in testa esempio di un intermediario che porterebbe questo tipo di documentazione non so se si può anche mandarlo tramite posta è un documento che si rilascia direi al richiedente da mano a mano anche per evitare le falsificazioni però possiamo immagino trovare anche casi di persone che svolgono questo ruolo di intermediario quando fanno il viaggio dal paese di origine a Venezia però non ho in mente un esempio preciso non so se Teresa Francesca Davide o Jacopo vogliono aggiungere una precisazione dunque sì sono d'accordo col fatto che appunto questi documenti si passassero di mano in mano e in genere si contattavano anche le autorità locali che provvedevano poi a trasferire questa documentazione sui tempi non siamo non siamo informati nel senso che la fonte non specifica una tempistica e oltre però appunto alle autorità poi in realtà gli intermediari potevano essere degli attori sociali vicini non investiti di un ruolo diciamo istituzionale ma semplicemente dei familiari che si spostavano oppure delle persone vicine alla famiglia non non sempre i processetti ci forniscono queste informazioni ma anche appunto altre tipologie di fonti soprattutto le le fonti processuali ma anche per quanto riguarda le autorità eccletastiche anche questa questa modalità di trasmissione dei documenti attraverso appunto delle persone che si spostano si vede anche ad esempio nei processi del santo uffizio e e quindi secondo me da quello che ho potuto che ho potuto vedere ci sono come due canali cioè un canale un po' più diciamo istituzionale e poi un canale di intermediari che invece erano semplicemente persone che andavano in un determinato luogo e quindi si approfittava di questo oppure persone vicine familiari o vicine alle famiglie grazie grazie mille ci sono delle domande da parte del pubblico del pubblico sentite sì buongiorno quale l'ambito della memoria voglio dire sono stato grazie mille per il formidabile lavoro che avete fatto che state facendo e della presentazione molto chiara e già molto precisa buon lavoro ma sotto la direzione di Teresa e di Chauva andrete bene lungo e alto dunque grazie a tutti qual è l'ambito e lo scopo della memoria perché i vostri documenti mi sembrano una fonte meravigliosa per vedere l'evoluzione della memoria dicono piuttosto insistono piuttosto sulla durata della relazione non tanto su fatti specifici dicendo ah ma ricordo che 25 anni e la mia questione sarebbe 25 il più lungo o dicono 10 o 5 o 5 mesi faccio un paragone con un testimonio che avevo visto della duchessa Caterina Corner docchessa di doganessa del Mario Corner alla fine del 400 dice ah ma lui è morto 25 anni fa in una questione di lite naturalmente sul testamento lui è morto 25 anni fa e forse lo dice per mantenere la pace familiare 25 anni fa e non ne ricordo più niente è troppo lungo avete l'esempio di questo tipo la natura della loro memoria e lo scopo della loro memoria mi sembrano differenti di questo della mia esperienza sarebbe molto interessante studiare sono troppo lungo la costruzione della memoria Shovar voi mi scusere grazie grazie tanto è piacere vederlo rispondere in due parole effettivamente tramite i processetti si può studiare la percezione quasi antropologica del del tempo a quest'epoca come rendere conto del tempo tanto della durata del tempo che passa della profondità temporale quanto degli eventi e quando si tratta di fare riferimento a un momento non si usa mai una data ma si colloca questo momento a un evento ad esempio la peste come abbiamo detto la guerra contro i turchi eccetera il momento è collegamento a un evento invece l'altro scopo dei processetti è di mettere in evidenza la permanenza la durata la continuità del rapporto tra il testimone richiedente e anche la continuità e la stabilità della stanzialità della presenza a Venezia e questo si richiede un altro modo di esprimere il tempo e spesso non c'è un dato numerico per esprimere questa permanenza temporale della relazione ma ci sono parole per esprimere ecco se Teresa vuole aggiungere qualcosa a proposito la ringrazio moltissimo per le osservazioni perché sarebbe in effetti molto interessante verificare se ci fosse una regolarità anche nel citare determinati anni quindi appunto 15-5 ci sono degli anni che si ripetono in effetti però questa è una cosa che dobbiamo che dobbiamo ancora diciamo verificare cioè se ci fosse se ci fossero diciamo degli archi temporali particolarmente significativi per quanto riguarda il fatto che i testimoni non ricordino delle informazioni anche questo ricorre ci siamo diverse volte confrontati anche su questo cioè sul fatto che a volte appunto ci sia questa quasi come se fosse anche una formula oltre che una strategia cioè del fatto di dire di non ricordare però anche questo è uno spunto interessante che sicuramente vale la pena vale la pena di approfondire invece per quanto riguarda la memoria in relazione ai documenti è interessante che queste fedi di stato libero in realtà non fossero sembra che non fossero fatte per essere conservate quindi che invece rappresentassero proprio dei documenti che le persone si scambiavano di mano in mano e infatti e questo si riflette anche nel modo in cui sono state conservate che appunto non segue poi la raccolta e l'andamento dei processetti e a volte si trovano delle fedi veneziani in archivi di altre città e viceversa questo volevo semplicemente dire questo grazie grazie a lei allora abbiamo una curiosità della professoressa professoressa Sapienza adesso prego grazie Nicola io sono parte che davvero ho moltissimo apprezzato la vostra presentazione ma avrei una curiosità che si rifà un po' alla alla questione che perdonatemi mi sentite ancora perché non mi vedo più eccovi qua scusate che si rifà a una delle questioni affrontate da Jean-François nel suo intervento cioè in sostanza la sistematizzazione della fonte il momento in cui piano piano questa fonte assume una struttura amministrativa diventa prassi amministrativa e quindi assume una struttura consolidata allora mi sono chiesta visto che mi pare chiaro che i testimoni siano quantomeno informati se non addestrati se così andando avanti negli anni anche i testimoni come dire imparino a testimoniare in un certo senso questa è una un punto di osservazione che mi pare interessante anche perché noi storici dell'arte che abbiamo ogni tanto utilizzato questa fonte abbiamo prestato grande fede a ciò che è scritto spesso su questa fonte quindi sarebbe importante cercare invece di interpretarla correttamente grazie grazie Valentina hai assolutamente ragione nei primi anni come nel corso dei seccento c'è sempre il filtro del del notario della curia che che raccoglie e poi consegna per scritto la testimonianza orale i processetti dei primi anni sono dal mio punto di vista i più interessanti perché i più etereogenei i più ricchi anche dal punto di vista narrativo e si sente la parola viva dei testimoni ma anche in questi anni ritroviamo spesso alla fine della testimonianza le stesse parole che tornano lo stesso vocabolario anche quando il il notario ascolta la parola che che sente e prova a a trascrirla usa il suo proprio vocabolario le sue proprie categorie non abbiamo mai una trascrizione esatta della testimonianza e è tanto più vero quando nel corso del 600 dipende anche del del vicario che 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 conduce il processetto la trascrizione indica precisamente le domande le 5 6 o 7 domande e la risposta è spesso molto breve nel corso del del 600 invece nei primi registri abbiamo una più grande ricchezza ma comunque tramite il il filtro del 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 notaio dell'istituzione grazie mille don francois darei adesso la parola a maria adanc che avrebbe una domanda buongiorno intanto ringrazio anch'io per la presentazione è un veramente un lavoro molto stimolante quello che state facendo davvero grazie ho due curiosità la prima si riferisce a una delle ultime cose che sono state dette da Teresa e cioè l'elemento dell'abito e mi chiedevo se soltanto nel caso della vedovanza che ci sono dettagli sul vestiario o anche in altri casi e questo mi interessa molto e poi un'altra curiosità invece di altro tipo è se c'è una qualche relazione tra le testimonianze e anche da un punto di vista della della legge di quello che state studiando voi e quello che invece delle prove di nobiltà che aveva studiato Alexander Cowan ecco grazie Teresa rispondi tu almeno alla prima parte se vuoi dunque per quanto riguarda gli abiti io li ricordo soprattutto in relazione alla vedovanza e poi invece una descrizione fisica quindi non dell'abito in relazione anche qui alla vedovanza però alla persona al coniuge defunto diciamo io in questo caso vorrei interpellare anche gli altri componenti del gruppo se invece hanno qualcosa da aggiungere perché occupandomi di un periodo successivo diciamo che i dettagli diminuiscono e invece sono le fonti appunto come diceva prima il professore dei primi anni che in cui si può avere diciamo la percezione di ascoltare anche la viva voce delle persone che andavano a testimoniare mentre negli anni successivi si fa un po' più fatica perché il processetto diventa più formulaico diciamo se quindi chiedo l'aiuto per questa domanda se qualcuno dei degli altri componenti del gruppo ha notato nelle descrizioni fisiche dei primi anni comunque volevo chiedere il favore a Valentina ma abbiamo preso da sola l'iniziativa di di poter fare un saluto io ogni tanto lo faccio ogni tanto ogni tanto tiro dentro Francesca Davide palesatevi Jacopo palesatevi si pronto Francesca si non mi faccio vedere scusate perché non pensavo di dover intervenire quindi sono in una condizione una stanza un po' disordinata allora io mi ricordo dopo magari interviene Jacopo non ti vediamo va bene ho proprio allora start video ok ecco mi sentite si io mi ricordo Jacopo magari poi può intervenire aveva trovato mi sembra un richiedente vestito alla tedesca veniva descritto così io invece ho trovato da poco un processetto di vedovanza in cui il testimone dichiara di non aver mai visto in volto la moglie defunta la coniugia defunta perché era originaria della Siria e là le donne costumano sono solite appunto andare in giro coperte senza lasciarsi vedere quindi questo è un altro magari riferimento al vestiario e sì più che altro non tanto della singola persona quanto magari della della cultura ecco del paese d'origine e del resto no 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 sono soprattutto come dice Teresa legate a allo stato vedovile grazie Francesca Jacopo vuoi aggiungere qualcosa grazie Francesca in realtà mi trovo nell'impossibilità di farlo quasi credo per il rimbobbo aspetto benissimo e sottoscrivo quanto ho detto da Teresa e da Francesca i processetti induziano maggiormente la descrizione degli abiti vedovili perché prova visibile tangibile di una condizione e le descrizioni invece sulle fogge sono rare sono le descrizioni fisiche e morali in realtà dei defunti però tendenzialmente sono atte alla corretta identificazione dei soggetti comunque tutte queste informazioni come dicevo prima abbiamo modo di raccoglierle non di strutturarle come dati ma di raccogliere di segnalarle come ad esempio informazioni diciamo di rilevanza storica quindi ci sarà poi la possibilità di di studiarle di riprenderle le stiamo ecco le stiamo segnalando grazie quindi torniamo torno alle alle prove di nobiltà perché è una domanda interessante perché nei processetti non sono presenti tra i richiedenti i nobili o essenzionalmente i nobili viaggiano sono ambasciatori si muovono per l'Europa vanno anche in terraferma però non sono sottoposti a questa procedura quando si sposano è una categoria che ha un trattamento matrimoniale specifico e non entra nella procedura processuale della cura patriarcale chiaramente grazie sulla bigamia vedo una domanda di i casi di bigamia fossero frequenti questo è un altro discorso Teresa appunto ha centrato l'attenzione su un caso molto interessante in grado di collegare il processetto matrimoniale e una causa matrimoniale per bergamia e mostrare che il processetto e la testimonianza che sta dentro è messa in discussione durante il processo per bigamia però le fonti sono diverse sono conservate in archivio patriarcale ma sono cause matrimoniali che sono effettivamente ben studiate da dall'assendalmenchi e da tutta la sua squadra alcuni anni fa ma rimane anche da Ermano Orlando di cui parlavo che appunto ha sfruttato le cose matrimoniali dal 400 ai primi anni del 500 ci sono anche tanti esempi di mariti che sono indagati ma che sono fuggiti che non sono più in città e che non sono presi direi da una pena da conseguenze penali non so Teresa se su questo punto in genere dipende dalla dipende dall'autorità dalla magistratura quello che ho potuto vedere è che in genere le conseguenze penali non erano così pesanti nel senso che lo scopo delle autorità soprattutto delle autorità ecclesiastiche era quella era quello di ricostruire in qualche modo un equilibrio e quindi in quel caso lo scopo non era quello di punire tanto il bigamo quanto di di ristabilire diciamo un un equilibrio a livello sociale e le cause di bigamia non sono così frequenti sono soprattutto gli uomini a a subire cause di di bigamia in quanto in genere le donne questo soprattutto per quanto riguarda le autorità laiche più che quelle ecclesiastiche denunciano il marito per per ottenere anche delle la restituzione ad esempio della dote comunque delle risorse economiche e questo abbiamo adesso una domanda da parte di Franca sarebbe interessantissimo andare ancora più profondo sulle vostre metodi statistiche quello mi interesserebbe molto tutta la struttura che è indietro di queste vostre scoperte incipiente sarà molto tecnico naturalmente credo ma molto interessante grazie allora forse se potete rispondere a questa domanda tecnica e poi diamo la parola dopo a Franca Cosmai prego non si può rispondere brevemente a questa domanda tecnica siamo effettivamente non dobbiamo nascondere le difficoltà incontrate perché siamo di fronte a una fonte molto ricca molto più eterogenea di quanto pensavo io prima troviamo in ogni processetto degli elementi strutturali nome origine mestiere la tipologia dell'interconoscenza eccetera troviamo le stesse informazioni ma il modo di dare queste informazioni possono essere diversi da un processetto all'altro e dobbiamo provare a trasformare questi elementi strutturali in dati strutturati nel database e questo sforzo ha richiesto con l'aiuto della ditta CleoLab direi sei mesi di lavoro e un impegno colossale da parte della squadra veneziana che era proprio lei di fronte alla fonte che aveva dei problemi per passare direi dalla trascrizione alla strutturazione dei dati questo esplicando direi il problema mitologico senza darla direi un'esemplificazione concreta ma l'elenco delle delle della tipologia delle relazioni il frutto di un confronto permanente tra la fonte e la necessità di costruire delle categorie stabili la realtà è così ricca soprattutto quando si tratta di mobilità di spostamenti che non può entrare in ogni categoria abbiamo effettivamente definito delle categorie abbastanza stabili e quando non entra in una tipologia facciamo un tag un bigliettino così possiamo ritrovare l'informazione per sfruttarla da un punto di vista più qualitativo avremo modo di mostrare direi CleoLab non abbiamo il tempo qui di entrare nel merito del database che ha richiesto veramente uno sforzo da parte del degli studiosi che hanno fatto prima la trascrizione il motivo per quale è andato abbastanza lentamente poi hanno costruito direi le diverse categorie di annotazione hanno fatto l'annotazione nel testo poi c'è una terza fase di controllo dei dati che si può fare tramite la piattaforma Geovistory e vi abbiamo dato esempi una mappa un grafico a partire di Geovistory però non si tratta veramente di un'analisi strutturata dei dati questa tappa che è l'ultima va iniziata nei prossimi mesi e richiede una programmazione specifica vedo che Jacopo ha le mani su sei Jacopo che sta dietro sì io non vi vedo più Jacopo ti allora ti lascio la parola vai io volevo limitarmi a illustrare senza descrivere più di tanto mi si sente? sì 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 non so se dipende di Valentina se abbiamo alcuni minuti fai un esempio partendo da un processetto e mettendo in evidenza le diverse annotazioni Valentina eccomi scusatemi avevamo disambiguato per usare un linguaggio a cui siamo ormai tutti familiari gli audio perché altrimenti si sarebbe sentito un gran imbombo per cui ho perso un processo della conversazione penso che la cosa migliore sia forse dare la parola intanto a Franca Cosmai e poi se resta una coda magari potremmo chiedere di dimostrarci se siete d'accordo naturalmente di entrare un pochino più nel merito su cosa state facendo esattamente e allora io vi ringrazio tantissimo per avermi permesso di partecipare a questo incontro ma voleva la mia voleva essere solamente così una un'affermazione rispetto a quello che diceva Teresa riguardava le testimonianze dei testi insomma le affermazioni dei testi che venivano sentiti ecco a quanto pare anche io ho avuto modo di consultare i documenti delle legittimazioni dei figli nati da matrimoni regolari figli naturali e anche lì ovviamente la rete di relazioni aveva un ruolo importante nell'attestare appunto l'appartenenza di questa figliolanza la coppia che ne richiedeva la legittimazione sono molto contenta di questo lavoro e vi faccio i miei più grandi complimenti una fonte che io ho conosciuto all'epoca in cui coordinate dalla professoressa Romanelli abbiamo inventariato i fondi archivistici della di oggi sì della curia patriarcale delle parrocchie che facevano veneziane insomma ecco tutto qua grazie buon lavoro grazie mille grazie grazie a lei è un invito infatti a un lavoro collettivo su i testimoni le testimonianze perché non devono essere isolate tra tra di esse ci sono dei modi di di fare che sono comuni qualsiasi la testimonianza però la testimonianza ha certi caratteri che sono legati allo scopo del del processo della causa del processetto si tratta comunque sempre di attestare del passato di eventi passati e i testimoni fanno spesso parte effettivamente della rete di relazione del dei riquerenti o di coloro che sono imputati per uscire dalla da 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 una fonte particolare per osservare in maniera trasversale la testimonianza sarebbe un un utile e molto stimolante direi progetto di lavoro ci sono già delle cose sulle testimonianze in diversi fori giudiziari però c'è modo anche di rienterpretare la documentazione in maniera trasversale lo sapete benissimo ma i processetti sono anche una fonte meravigliosa per gli storici dell'arte secondo me sono a livello degli stati delle anime che non ci sono a Venezia che sono stati sfruttati a Roma a tappeto per i primi decenni del seicento ma anche il modo di ricostruire l'ambito sociale degli artisti mi ricordo di una mostra su Montsou Desiderio tenuta alcuni anni fa a Mess in Lorena perché i fratelli Desiderio veniva dalla Lorena e sono andati a Napoli uno di loro si è sposato a Napoli e hanno ritrovato nelle carte dei processi matrimoniali il processetto che era trascritto nella mostra sono stato molto colpito di vedere un processetto in una mostra francese su un artista che ha seguito il percorso di tutti i nostri inquadenti partito da lontano e poi si è fermato non sappiamo ciò che ha fatto dopo però si è fermato una città e si è sposato ma infatti noi Jean-François non vediamo l'ora che voi abbiate finito per poter cominciare a navigare in questo mare pieno di pesci quindi aspettiamo veramente con ansia che questo lavoro sia ostimato sì mi chiedevo anch'io se l'incrocio con l'archivio di alcune corporazioni alcuni mestieri potrebbe essere pertinente se avete già individuato alcune comunità alcune professioni che sarebbe interessante approfondire in seguito direi per la tanti di tanti mestieri sono 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 presenti effettivamente il settore della del tessile è molto presente tra gli operai però ci sono anche tanti marinai a fine cinquecento e il modo di collir direi la la stagione di San Martino dell'economia veneziana l'ultimo decennio del cinquecento i primi anni del del seicento prima veramente un 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 ruolo del dell'economia cittadina e si si vede nei percorsi del nell'origine anche dei richiedenti la vivacità dell'economia veneziana a fine cinquecento l'idea è di poter fare comparazioni per i periodi successivi senza entrare veramente nel dettaglio di ogni processetto ma vedere se i bacini di riflutamento cambiano e se c'è come si può ipotizzare una riduzione del del della della trazione di venezia o almeno un cambiamento delle zone di origine il nord west dell'Europa sarà di sicuro più presente nella seconda parte del secetto del settecento ma comunque non potremo almeno di avere l'eternità davanti a noi o allora mezzi umani scontenati scatenati non potremo vedere e soprattutto annotare tutti i processetti se andiamo fino alla testa e poi se facciamo confioni sarà bello sì sarebbe interessante anche poter dialogare con altri progetti che appunto si sono occupati più da vicino delle professioni come il progetto Marvin di cui abbiamo parlato proprio in questo seminario e quindi vedere anche appunto come la regolamentazione delle corporazioni stesse potesse influire anche sull'arrivo di forestieri che appunto si occupavano di determinati settori comunque le professioni sono le più disparate in realtà sarebbe molto interessante sono molto interessanti da studiare perché abbiamo tanti dati sulle professioni e quasi tutti in quasi tutti i processetti riusciamo ad inserire questo questo dato quindi sicuramente si potrebbe appunto collaborare con altri progetti oppure ci sono i dati per fare delle ricerche anche a partire da alcune professioni come diceva il professor Siovari il settore tessile i mercanti erano particolarmente sono particolarmente presenti sì appunto sì forse partire da progetti di ricerca già strutturati pensavo anche alle le professioni legate all'edilizia tutti tagliapietra originari dal dal Ticino che sono stati oggetti di ricerche e sì ovviamente è un lavoro che richiede collaborazione con con specialisti che forse hanno anche osservato questa cosa non da Venezia ma da un'area di provenienza specifica di determinati artigiani non so se ci sono altre domande da parte del pubblico oppure possiamo presentare lo strumento prima di concludere questa questo seminario non so come iniziamo la presentazione sì eccomi però io preferirei non commentarlo quindi chiederei a Francesco Davide di spiegare però tu hai la mano su su GeoVistory no chi bene questa è l'interfaccia che permette la navigazione la prima icona indica i contenitori le box all'interno del quale sono ordinate le fonti quindi entrando ad esempio nel prima voce che corrisponde al volume 1 è possibile aprire una sezione a margine dove sono riportate quelle che noi definiamo le section che corrispondono di fatto al singolo processetto ogni cartellina è un processetto dalla cartellina è possibile poi accedere direttamente alla trascrizione in cui compare peraltro la notazione le notazioni sono associate a delle entiti perché il modello proposto dal Geovistor è event centred ovvero pone al centro gli eventi e quindi le interazioni tra più entità le entità poi si distinguono in due tipi le entiti persistenti e quelle temporanee entiti persistenti si può citare ad esempio l'entiti persona o i luoghi geografici che rimangono invariati costanti mentre le entità temporanee sono delle proprietà che si associano o che derivano dalla relazione di due entità persistenti ad esempio il la nascita il birth la notazione testuale permette l'accesso diretto alla singola entità ad esempio il richiedente che costituisce una persona all'interno della scheda persona sempre ammesso che già visto lì la carichi vengono raccolte tutte le informazioni pertinenti a partire dal nome completo che riporta il nome il patronimico il cognome e sintetizzati per garantire la possibilità di disambiguazione il luogo di provenienza e la professione e il cognome segue il genere il social character che è in realtà stato abbandonato in virtù di una strutturazione più articolata del dato ovvero fondato sulle motivation type la localizzazione che permette di descrivere tanto la Diva Venezia che è il primo campo quanto la parrocchia di residenza al momento del processetto stesso l'inquired ovvero la ragione che ha mandato il l'esistenza della fonte che comprende i testimoni chiamati a riferire dello stato libero la ragione che ha motivato l'inquired e la data del processetto seguono poi le indicazioni di origine le relazioni sociali che si distinguono in due macro insiemi quelle le social relations direzionate e quelle non direzionate dove quelle direzionate rispondono a una logica per cui i rapporti interpersonali possono essere partire da un punto A arrivare a un B e non essere rovesciabili invece quelle orizzontali che permettono un rovesciamento segue l'occupazione e appunto informazioni relative alla nascita in questo caso non era dato sapere l'anno di nascita del richiedente perché non riportate le testimonianze la strutturazione dei dati in questo modo permette poi la creazione di table tools d'analisi che garantiscono una navigazione all'interno di questo grande patrimonio di dati in cui si trovano elementi di sintesi che poi sono scaricabili in formati diversi e quindi analizzabili tra le possibili analisi peraltro c'è la visualizzazione sulla mappa dei luoghi d'origine o d'abitazione ecco questo non andrei oltre per ragioni di tempo e si finirebbe per cadere in tecnicismi noi stessi abbiamo speso molto tempo per attendere tutte le possibili funzionalità previste dal tool digitale cedo di nuovo la parola professore grazie mille per questa lezione bellissima di una chiarezza straordinaria potre potremmo fare potremmo fare delle mappe più elaborate usando diversi criteri con un'esportazione verso programmi specifici abbiamo usato soltanto lo strumento interno a Geovistory grazie mille anche a Jacopo Cossu per questa rapidissima spiegazione di una cosa molto complicata quindi davvero uno sforzo di sintesi notevolissimo io se non ci sono altre domande o altri interventi visto che siamo andati anche un pochino oltre l'orario del seminario io vorrei nuovamente ringraziare Jean-François Chauvin e Teresa Bernardi per questa bellissima presentazione naturalmente vi continueremo a seguire a distanza per sapere come sta procedendo io personalmente sono rimasta molto colpita anche dal fatto che vestire da vedova sia essere vedova cioè non c'è bisogno di altro questa cosa per noi che lavoriamo con le immagini a me come dire fa un effetto direi abbastanza forte notevole decisamente io vorrei salutarvi ancora ringraziarvi tutti ringraziare anche Nicolà e Alessio che hanno modellato il dibattito nuovamente il direttore dell'archivio storico del patriarcato Don Diego Sartorelli per averci appunto onorato della sua presenza anche per aver introdotto i lavori ancora Laura Levantino e Milena D'Agostino il team veneziano che è stato timidamente presente Francesca Zugno Davide Drago e Jacopo Cossu e vi darei appuntamento al prossimo seminario il 15 aprile interverremo io e Jacopo Cossu con uno studio ancora in gran parte da pensare sull'apprendistato dei mestieri della fraglia a Venezia foresti e stranieri tra protezionismo e innovazione un titolo che probabilmente subirà delle variazioni ecco così vi abbiamo anche anticipato un piccolo scoop successivo vi ringrazio ancora davvero tutti per la vostra sempre molto calorosa e piacevolissima presenza e ci ritroviamo il 15 aprile con il prossimo appuntamento grazie a tutti e grazie a tutto il gruppo di lavoro Rive senza cui come al solito tutto questo non sarebbe possibile grazie